Seconda tappa a Pontremoli per la nostra Francigena, il ciclo di incontri organizzato dalla regione toscana per far sì che l'antica via tracciata dal vescovo Sigerico nel Medioevo diventi un unico prodotto turistico omogeneo. L'appuntamento a Pontremoli, comune capofila dell'aggregazione francigena del nord che comprende i comuni di Filattiera, Villa Franca e Lunigiana, Bagnone, Licciana Nardi, Fosdinovo, Aulla, Carrara, Massa, Montignoso, ha visto i soggetti interessati, gestori di ostelli, imprese turistiche, associazioni comuni fare il punto sulle criticità e le opportunità della via francigena oggi. Le priorità le vogliamo decidere tutti insieme, le vogliamo decidere ascoltando le esigenze delle istituzioni che stanno facendo un grande lavoro perché sappiamo che il momento non è nemmeno facile sotto l'aspetto economico finanziario e poi ascoltando tutti coloro che hanno interessi positivi collegati alla francigena. Da qui il nome, la nostra francigena, non è qualcosa che è di proprietà di qualcuno ma è un bene veramente di tutti. E nel convento dei Cappuccini, adesso stello per i pellegrini, sono stati organizzati tre tavoli tematici dove sono stati discussi tre aspetti che saranno curati dai 39 comuni toscani toccati dalla francigena, vale a dire ospitalità, promozione turistica e manutenzione dei tracciati. Un momento di confronto per lo sviluppo di questa risorsa che è la via francigena. Se vogliamo davvero realizzare questo percorso, progetto, se vogliamo parlare di identità di via francigena, dobbiamo anche confrontarci e lavorare in maniera tale che il turista, il pellegrino, il camminatore, e quello il quale vorrà assaporare la via francigena, possa davvero viverla come un prodotto, anche se è una parola più commerciale, che non dà forse il vero senso del cammino, ma insomma credo che per intenderci meglio si possa usare questa parola, il prodotto francigena. Durante l'incontro sono state raccolte le proposte dei soggetti interessati su tutti e tre i versanti. Per quanto riguarda il dibattito sulla manutenzione del tracciato, è emersa la necessità che i comuni siano sostenuti in questa attività. Sul fronte dell'ospitalità è stata sottolineata l'importanza di quella povera e della destagionalizzazione. Sulla promozione il punto che è emerso è una comunicazione che uniformi l'offerta. Nella plenaria sono stati presentati il pane di Sigerico, creato dall'Istituto Alberghiero di Bagnone, e la francigena Marathon. Prossimo appuntamento con la nostra francigena a Siena il 12 gennaio.